Regione Liguria fa un grande regalo alla città perché non appena finirà la mostra inizieremo i lavori per restaurare, grazie a un contributo di Regione di 30.000 euro, uno dei capolavori assoluti non solo di Genova, in questo scrigno che è la Chiesa del Gesù, ma proprio un capolavoro del Barocco europeo. Rubens con la circoncisione sull'altar maggiore della Chiesa del Gesù dà avvio a questa nuova arte che è teatro, colore, luce, movimento. Lo fa qui a Genova nel 1605.